E mi sono resa conto quando mi hanno proposto di parlare, parlare del rapporto che ci può essere tra le due date classiche del 25 aprile, quella della liberazione e il primo maggio quella del lavoro, parlare nel caso del 25 aprile della libertà e del primo maggio del lavoro. E ho pensato che valesse comunque la pena di attaccarmi ad alcune parole che sono venute fuori molto spesso in questo periodo, di un silenzio e nello stesso tempo di grande vicinanza con delle persone che non ci sono più o che sono lontane, come succede quando uno è isolato. Ora io trovo questa scusa dell'aggrapparmi a delle parole, delle locuzioni salvagente per non perdermi e anzi semmai provare a riflettere anche dopo tra me e me più approfonditamente. Il primo momento che ha a che fare con un modo di dire è stato quello del distanziamento sociale che sembrava il dovere di questo periodo. Per me un modo di dire in questo caso sbagliato, non condivisibile dal punto di vista etico e addirittura magari anche la parola sociale non aveva senso, secondo me andava detto interpersonale, mi ha portato a rifiutare e a non considerare con disciplina l'importanza di questa fase per la prevenzione, non considerarla un dovere che metteva me insieme a tutti gli altri. In qualche modo farmi le leggi per conto mio, che è una tradizione che è molto comune nel nostro paese. Questo distanziamento sociale mi ha fatto pensare per forza alle forme della socialità. Sono pensionata, quindi io non vivo in un ambiente di lavoro, ma in un ambiente di relazioni che partono e ritornano da me. Posso vedere le relazioni degli altri nel loro vivere in famiglia e anche apprezzare la differenza tra quelle relazioni e quelle che io ho con me stessa o con i miei amici o con i miei parenti. E questo è stato, io direi, molto utile. Anzi, ho quasi avuto l'impressione di avere avuto un vantaggio dall'esterno, un tempo per riflettere che è stato un regalo, una possibilità di vedere la vita in replay, come si dice, in moviola. E la cosa all'inizio mi ha quasi euforizzato, poi non è stato così e ho cominciato a domandarmi le poi. Ho avuto un momento di preoccupazione e di sconforto pensando a che cosa fosse davvero questa vicenda dal punto di vista globale. Io ne ho avuto una grande paura, ma per evitare la paralisi mi sono detta e come ne usciamo, quando ne usciamo, quanto dura e chi ne esce. Io direi che qui il problema è come sviluppare un'uscita solidale che veda le famiglie abbastanza protagoniste, gli individui abbastanza forti, ma anche una regia globale di una crisi che è sicuramente globale e che si riflette in tutti i segmenti sociali. Una cosa secondo me interessante del 25 aprile e anche confortante è stata vedere come le persone di tutte le generazioni, ma soprattutto dei giovani adulti e dei giovani, hanno acchiappato questa data per fare una specie di affermazione gioiosa della propria identità e delle proprie speranze, attaccandosi a degli eroi semplici ma molto potenti perché avevano avuto la possibilità di vivere in un mondo con una sua coerenza, dove i buoni erano da una parte e i cattivi dall'altra. Questa cosa è stata secondo me molto interessante perché poi la celebrazione è stata fatta anche in modo leggero finalmente, non retorico, attraverso dei canti, delle danze. Ho visto anche danzare su una finta tastiera di un pianoforte oppure tambureggiare sul coperchio del water a un mio amico che si occupa di, come si chiama, il drum, insomma, hai capito? Il tamburo di batteria. Questa cosa per me è stata molto bella e sono stata contenta di partecipare per come ho saputo. Un'altra cosa che però mi ha dato il 25 aprile è stato questo vedere i giovani e riflettere al loro futuro. In genere ne parliamo con uno sconforto enorme per la loro possibilità economica concreta, per questo loro lunghissimo precariato già precedente e in prospettiva. Ora, di fronte al precariato, secondo me, le risposte possono essere di vario tipo e loro sono estremamente flessibili. Quindi mi ha dato l'idea che si possa usare la loro capacità di adattamento, ma con la loro spinta in avanti, anche per attaccarci noi al carro dei giovani. Si tratta di aiutarli a non accettare la frustrazione di una realtà che gliene darà sicuramente tante, ma che rimanendo realtà possa anche essere carica delle capacità di non smettere di sognare. È una cosa molto banale, ma il fatto è che questa volta i sogni non sono dei giovani, sono anche i nostri che noi li affidiamo. Quindi la mia idea è di aiutarli in qualsiasi modo a rinforzarli, a dargli valore, spessore e anche un retroterra che loro non hanno magari potuto incontrare. Quindi si tratta, secondo me, di mescolarsi, di partecipare e non ho pensato ad altro, ma vi ringrazio molto.